oggi trova le parole fa l'analisi fare le valutazioni dire qualcosa alla squadra è complicato è complicato non serve fare video sfogo non serve fare i video arrabbiati non serve lancia tutto non serve stronca niente serve soltanto di che oggi il benevento la prestazione era fatta la squadra è scesa in campo purtroppo all'inizio forse leggermente meglio rispetto alle altre volte però purtroppo l'approccio l'abbiamo pagato abbiamo preso gol alla prima imbucata dell'udinese alla prima verticalizzazione depol ha imbucato molto molto bene per per molina depol fuori classe assoluto merita il salto di qualità merita degli andare in una big sicuramente e noi abbiamo abbiamo preso il gol dopo appunto 4 minuti alla prima imbucata siamo partiti male non non malissimo perché alla fine il primo tempo comunque non si è giocato male poi praticamente si è attaccato solo noi dopo il quarto dopo il gol dopo il quarto minuto di fatto si è attaccato solo noi fino al trentesimo l'udinese è venuta giù un'altra volta dalle parti di montipo e ha trovato il 2 a 0 lì è la partita comunque si è messa ancora di più in salita la squadra è stata brava a trovare il gol del 2 a 1 con con viola e poi dopo di che nel secondo tempo comunque non si è giocato male l'udinese è stata più brava è stata più brava a sfruttare è stata cinica è stata più brava a sfruttare le occasioni che ha avuto è una squadra che onestamente dal punto di vista della qualità dal punto di vista dell'intensità dal punto di vista dei giocatori ma è molto superiore al benevento ma non è che ora io so qui oggi a dir che l'udinese è superiore al benevento perché io ho perso contro l'udinese perché l'udinese più forte del benevento e che l'udinese poteva finire il campionato oltre 50 punti visto la rosa che si sa che c'ha si sa ecco io ragazzo molto rammaricato oggi sono molto rammaricato c'ho paura chiaramente dopo il giurone d'andata che si è fatto non ci aspettavamo di fare un giurone di ritorno così male così negativo se nel giurone d'andata ci eravamo gasati ci eravamo comunque stupiti nel giurone di ritorno ci siamo comunque ristabiliti siamo ritornati realistici siamo comunque tornati con i piedi per terra forse anche anche troppo forse anche troppo e è stato un giurone di ritorno sotto le aspettative ecco se il giurone d'andata era stato al di sopra delle aspettative il giurone di ritorno è stato al di sotto delle aspettative io ho visto veramente il primo gol quando ho visto il primo gol in quel modo un'imbucata con molina che passa alle spalle di improta e va segnato in maniera facile in quel modo con tutto il campo alle spalle il benevento veramente concede troppo tutte le volte che le squadre avversarie vengono giù si rischia di prendere gol la mancanza di letizia è stata ancora una volta pagata in maniera totale cioè non c'è un sostituto all'altezza per quanto riguarda letizia subiamo veramente troppi troppi gol tutte le volte che le squadre avversarie vengono dalle parti nostre della nostra difesa è un rischio perché poi la squadra alla fine costruisce e crea certo è che però troppi gol troppi gol troppi gol subiti troppi 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 gol subiti troppi troppi gol subiti cosa si potrebbe fa per salvarsi a questo punto è difficile trovare gli stimoli trovare la testa giusta trovare le motivazioni sarebbe importante recuperare letizia sarebbe importante mettere letizia sull'esterno a destra giocare con pauli è l'unico modo forse potrebbe giocare anche coglionita sull'esterno sausta fa bene poi anche lui si è rotto sfiga totale è entrato gai a un certo punto a centrocampo da bo disastroso da bo disastroso da bo disastroso viola è uscita a finire per tempo non so che aveva io vi dico provare con 5 3 2 provare con 5 3 2 o addirittura con 5 4 1 con 5 4 1 e ti giochi ti giochi le partite con con crotone e cagliari e torino in maniera decisiva scontri diretti sono decisivi a questo punto qui vediamo quello che famo vediamo quello che famo bisogna cercarne settimana di ritrovare un po gli stimoli di ritrovare un po la testa giusta di ritrovare quella compattezza quella grinta quella determinazione che c'è contraddistinto nel girone d'andata però rimane la delusione rimane la delusione perché la squadra veramente quando subisce sembra essere lo sbaraglio perché poi ripeto la squadra crea non capisco anche perché a gennaio come avevo detto io non si è preso cataldi onestamente cataldi è un giocatore che non rientra nel progetto della lazio non gioca praticamente mai la lazio al benevento avrebbe fatto comodo sicuramente un ritorno di cataldi al posto di al posto di d'abò iago falch è entrato entrato anche bene alla fine però onestamente l'udinese ha fatto molto molto meglio soprattutto a centrocampo ha vinto la partita a centrocampo l'udinese ha vinto la partita a centrocampo con le qualità e raga ritrovava un po di stimoli trovava un po di fiducia però certo è che il momento non è non è facile ora vediamo che succederà anche in quegli altri campi però non è facile ecco analizzare la situazione ripeto speriamo di ritrovare i giocatori giusti speriamo di ritornare veramente la squadra compatta la squadra coesa saranno importanti le prossime partite ora mi sfugio onestamente con chi si gioca la prossima gara ci guardiamo subito dove andremo a giocare la prossima partita però ripeto col crotone e col cagliari col torino è importantissimo importantissimo la prossima giochiamo contro il milan quindi onestamente non è un milan che informissimo si potrebbe anche fa un punto magari poi cagliari e poi le ultime due in casa col crotone e poi a torino quindi diciamo il calendario alla fine non sarebbe nemmeno complicatissimo perché comunque è sempre tutto nelle tue mani ti giochi sempre tutto certo è che non che noi con i scontri diretti siamo andati male perché ora non ho memoria non c'ho tanto la memoria lunga ma col crotone ha perso all'andata con lo spezia hai perso e ha pareggiato col parma fatto due pareggi con il cagliari ha vinto col torino pareggiato mi sembra e poi con l'udinese ha vinto e oggi ha perso però insomma col genova due pareggi non con i scontri diretti non siamo andati troppo bene io vorrei che alla fine si paga sto fatto qui si paga sto fatto qui dei scontri diretti venendo alle pagelle l'udinese mi è piaciuto tanto musso ma altro top player musso ragazzi altro top player musso perché ha fatto veramente bene musso voto io ragazzi veramente per le parate che ha fatto musso un sette e mezzo meritatissimo sette e mezzo ma anche otto per la partita che ha fatto musso i tre difensori centrali nuiting mi è piaciuto più di tutti nuiting sette bonifazzi sei becao sei molina sei e mezzo depol sette e mezzo depol sette e mezzo wallace sei e mezzo arslan sei e mezzo stregan larsen sei e mezzo per eira sette okaka sei i subentrati dalla panchina ma che un go sei samir sei braf sei e mezzo per per quanto riguarda il discorso del gol venendo al benevento montipò montipò alla fine nei gol poteva poco 5 glick caldirola e barba tutte 3 5 ragazzi come può dagli di più viola sei e mezzo schiattarella cinque e mezzo dopo quattro e mezzo c'è da bo scandalosa la prestazione di da bo temai 5 in prota 5 depaoli 5 e mezzo sao 6 la padula alla fine ha giocato bene la padula 6 e mezzo che dico di allottato per i subentrati gaik 5 diago falche 6 schiattarella 5 5 e mezzo insignia 5 5 e mezzo questa è quella situazione questa è la situazione della delusione delusione rimane delusione e rimane rammarico ditemi la vostra se vi fa piacere iscrivetevi al canale un salutone a tutti ragazzi speriamo bene ma è dura è dura è dura certo è che finché la matematica non ci condanna ci si crede ma è veramente dura da salutone ciao ragazzi sempre forza benevento comunque sono deluso ma sempre forza benevento